Denis mi hai rubato l'armatura Eh Gabri si te l'ho rubata l'armatura perché Sì 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 perché adesso Dobbiamo andare a fare la caccia al tesoro dunisiani E tutti insieme Vedrete dunisiani che io troverò la mia armatura Poi a fine video ammazzerò anche Denis No non ammazzerai Denis Sennò poi dopo Dunis ti banna Allora adesso Gabri dovrai trovare Ok Il primo cartello che vabbè sai dove era Pure visto prima perché ovviamente tu sei un genius Allora cos'è che dice Una foresta bianca indicherà la tua strada Una foresta bianca indicherà la tua strada Questa credo Bravo 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 Vedo che sei perspicace Allora in pratica in questo video dovremo andare A trovare i cartelli che ci indicheranno La strada ok La strada il sentiero più adatto a percorrere L'ha già trovato il cartello ma è bravissimo Eh potete metterlo tipo dietro l'albero Cioè così era più No 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 vai vai Un laghetto Un nel laghetto Vabbè Un nel Nel laghetto troverai un caro oggetto Allora nel laghetto troverai un caro oggetto Ma attento Gabri Vai Questo credo No no cioè non credo Eh vai un po' in giro Vai un po' in giro no Cioè un po' capito più Più in giro Trova Trova tutti i laghetti Un po' più grande Deve essere un laghetto un po' più grande no Voi doniziani avete già capito qual è Però eh no Gabri stai andando No 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 è sempre nella foresta Sempre nella foresta bianca Ah allora è quello Sì 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 esatto Devi venire qua Allora doniziani Vediamo se voi capite Capite dove Ecco l'ho trovato Ecco sì esatto Allora qua c'è una cassa no? Vediamo se voi capite dove No 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 prima leggi questo Prima leggi questi Hai trovato il lago bravo L'oggetto non c'è Ti ho preso in giro In giro Cioè Cioè Bianca Cioè Non riesce neanche a scrivere No perché non Non mi bastava lo spazio Poi qua dice Avanti Dovrei andare Per trovare il sentiero Ah ok Quindi Qua non c'è niente Suppongo Eh Beh in realtà c'è qualcosa Un'ascia di ferro E della cobblestone Esatto Un'ascia di ferro Potrebbe essere che ti servirà Per diciamo vabbè Combattere Perché è quella più potente Quindi no? Eh Eh Vai Vediamo Qua devo continuare avanti Sì 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 Sempre avanti Tu sempre avanti Vai Sempre avanti Sempre avanti Per questa strada dritta Allora quindi Nello scorso vertelo avevamo detto Che dovevamo superare questa foresta Infatti lo stiamo facendo E Ecco oddio sono caduto nella gritta Bravo L'hai visto L'hai visto bravo Una foresta fitta devi trovare Ma non farti scoraggiare Esatto Una foresta fitta devi trovare Ma non farti scoraggiare Sai dove era La foresta fitta Eh sì quella Ma perché io ti sto dicendo le cose Non devo dirti le cose Ecco ho visto Raggiungere un corso d'acqua Che dovrei attraversare Eh Vediamo Vediamo se Di qua Dove devo andare Di qua Eh Trapassa la foresta oscura Devi capire Devi capire Ciò che Ciò che voglio dirti No? Con questi Con questo indovinello Perché questi sono Indovinelli Dunisiani Sono indovinelli Dove dobbiamo tutti quanti cercare Di capire cosa Dunis vuole Cercare di dire Eh perché sono tutte cose strane Vediamo se Gabri Riesce a trovare Il posto Il corso d'acqua Diceva Qual è questo corso d'acqua Questo corso d'acqua Allora No aspetta Allora è questo Eh qua ti voglio Qua ti voglio E beh il corso d'acqua Sì vabbè ma sta foresta È immensa Non c'è Eh beh beh Gabri Ti devo dire che Non è questo Non è questo Ti posso dire solo questo Ma è di qua È di qua almeno Non posso dirti Non posso dirti dove Tu Cercala La troveremo prima o poi Questa foresta è anche pericolosa Perché Sì ma poi quando arriverà Eh Perché Quando arriverà cosa Cioè Allora Diceva Vediamo Non mi interessa Eh Dicevo questa foresta È anche molto pericolosa Perché nasconde dei mostri All'interno Voi sapete che i mob spawnano Perché è tutto quanto buio qua Ehm Vediamo se riusciamo a trovare Questo corso d'acqua Perché potrebbe essere Che anch'io me lo sono perso Aiuto Forse Aha Ok Ah Ok meno male Mi stavo spaventando Eh vedete Però qua Qua devi trovare un'altra cosa Mmm Non è È un altro cartello Prima Un altro cartello Un altro cartello Troviamo un altro cartello Vabbè Mmm Il corso Quindi c'è In pratica Questo corso d'acqua Io adesso ho paura Che trovi troppo in fretta Le cose Perché in pratica Manca pochissimo Alla fine Dunisiani Ed è questa la cosa Che mi spaventa Comunque Gabri è un corso d'acqua Dovrai superare Un corso d'acqua Dovrai superare No non superare là Non superare là Se no ti banno Ehm Intanto io prendo le canne da zucchero Perché questa è una vanilla Dove potete entrare anche voi Dunisiani In questa vanilla Esatto Venite sul mio server discord Il link in descrizione Ehm Poi trovate le istruzioni Per entrare scritte da me Sì esatto Scritte da Da Gabri Perché lo incarico io di scrivere Però sinceramente io non so dove Dove questo Cioè Dunisiani Cioè rendiamoci No allora Allora E io qua Ho preparato le cose L'hai trovato? Cioè Dunisiani Dunisiani Rendiamoci conto Cioè Denis Non sa neanche scrivere Eh Gabri Eh sì sì Tu parla parla Poi alla fine non concludi i discorsi Mannaggia a te Mannaggia Ah quanto ti odio Allora Un fiore rosso Troverai Stai zitto Lo leggo io perché tu non sai legge Un fiore rosso Troverai E la strada delle profondità Capirai Ma questa Questa spada è per me Eh no Penso di averla buttata io prima Però se vuoi è tua Perché ormai io Quella vita Ah bene bravo Ti ho trovato un fiore rosso Un fiore rosso È pieno di fiori rosso Ma è uno solo Un fiore rosso solo Vicino Io ti do un altro indizio Vicino ad un albero È isolato Eh cerca questo fiore rosso Penso di aver anche scordato Una crafting table La vicina All'albero Eh c'è Giudiziani Allora Gabri Eh questa cosa Non mi piace Non mi piace Che tu mi prendi in giro Solo io posso prendere in giro Allora Allora Comunque stai completamente Andando sbagliato Cioè Sbagliato completamente Che schifo Gabri Sbagliato No No c'è No c'è Eh sì Non trovi Non trovi Eh ti trova Scrutta di più Dammi un altro indizio Perché sennò così Non la trovo Allora Un altro indizio L'altro indizio te lo darò Quando deciderò di dartelo Brutta foca grassa Adesso riparte la foca grassa Ma almeno sto andando Nella direzione No no Stai completamente sbagliando Completamente Cioè Via È più vicino È più vicino All'altro cartello Comunque Cioè non è molto Lontano dall'altro cartello Hai capito Allora è di qua È di qua Sì però Gabri Più sveglio Sennò Mannaggia Certo lo mettiamo tutti No Sempriché ti stai lamentando Mannaggia A tua A tua Chi altro A Gian Giuberto Quel Gian Giuberto Quando lo detesto Gian Giuberto Io mangio i panini E prendo il fiore Un fiore qua Che no Fa schifo Via Non lo voglio più Dicevamo Ma quindi Sto fiore rosso L'hai trovato? No Non ancora Aspetta Ne vedo uno Esatto Ne vedi uno E Gabri No aspetta Gabri Gabri Vieni qua Sto il fiore rosso Vieni qua Guarda Leggi È sempre lo stesso Sei ritornato all'inizio Gabri Seguimi Seguimi tu Ti do un indizio E diciamo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Allora Eh vengo Ti indico più o meno la strada È più o meno da questa parte qua E già da qua si può Ah sì ma Denis è notte adesso Vabbè 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 Veloce veloce Ecco il fiore Ecco il fiore esatto Qua c'era pure la graffing table Cioè io veramente scioccato Ci devo fare con il fiore Allora no Non devi farci niente Non devi farci niente Però qua Rimettilo intanto a posto Perché fai schifo Metti No era qua Ok E qua Qua devi scavare Qua Praticamente qua E ti ho detto Allora scava davanti al fiore Mannaggia te La donna ha la palla Posso farmi una palla No devi Scava con le mani Dai Cioè che eroranza di Di persona Pigra sei Oh bravo Aspetta devo vedere Oh bravo Vedi 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 che ho messo l'armatura Bravo Gabri Che hai trovato l'armatura Perché l'inventario è pieno Eh metti Sì Poggia Allora dimmi Come ti è sembrata Questa caccia al tesoro Facile Facile Eh beh però Alla fine ti stavi perdendo Eh 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 Pensa un po' Questi cartelli Rimarranno qua In questo mondo Perché fanno parte ormai Di questo mondo Di questa serie Eh esatto Cioè i donisiani Che vendranno tutti voi Questi cartelli Esatto non si è capito niente Di quello che hai detto Ma vabbè ha detto Diventerete anche voi Parte di questi cartelli Esatto Eh vabbè Allora stiamo qua Se no non si vede niente Nel video Vieni Allora vieni qua Ok stai fermo Stai fermo Allora Concludiamo il video Dunisiani Se siete arrivati Fino a questo punto Del video Scrivete Perché io vi vedo E così so che siete arrivati Quindi vi do il cuoricino Scrivete Dammi un consiglio Gabri Vai dammi un consiglio Cosa devono scrivere Eh Non so Denis Non sta Nascondere No 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 Non fai schifo Adesso Slash Ban Gabrile Perfetto Non vedrete più Gabri Nel mondo Scrivete Blocco d'erba È una È una Cotoletta Ma Blocco d'erba È una Cotoletta E quindi vabbè dai Ti pardono Gabri Perché cioè Se no Eh Bravo bravo E quindi dunisiani Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie.